Buongiorno a tutti 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 Buongiorno Buongiorno a tutti 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 Grazie a tutti. 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 Benissons le Segnore. E poi, ho detto grazie a mio mario che accette di me honorare davanti l'Etat, l'Etat americano. Quindi, io sono fia di lui. C'è un honnello partagio. Non di te consentirei, non di farlo. Non di farlo, non di farlo. E' bisogno di discutere insieme. Ce che vi consiglio a tutti quelli che vogliono restare insieme, è il dialogo e la conversazione. Il faut sempre dialogare, il faut sempre interagire e poi trovare intérêt d'attente. E sarà meglio. Persona non ha le doigt d'imposare qualsiasi sia. C'è una question d'attente e poi di fare le cose insieme. Grazie molto di accettare la mia proposition e poi di lavorare insieme per che ci sia complesso. Grazie a te ringrazio perché ti ho accettato di m'honorare. Tu mi hai honorato davanti alla mia famiglia, davanti all'Eglise e poi oggi davanti all'Etat. Io sono fia di essere e poi che il mio Signore ti benissi, mio chèio. Un consiglio per i nostri mariati o altre persone per seguire il vostro esempio? Il consiglio che che vorrei darci è d'abord la volontà e poi quando abbiamo la volontà quando abbiamo la volontà quando abbiamo la volontà quando abbiamo la volontà di fare le cose abbiamo le fatto e non bisogna ne dovremmo attendere di avere tutto ciò che vogliamo per cominciare. Io penso che in cominciare progressivamente abbiamo fatto ciò che abbiamo fatto e poi abbiamo avuto. questo è il consiglio che posso darci per i nostri come consiglio come consiglio io penso che come mi ha detto è il consiglio di essere tra le due persone tra l'opera e l'opera quando ha detto che in ogni caso non si limita non si non Quindi posso dare un consiglio ai giovani che mi seguono in questo momento. Quindi cerchiamo un po' di più, cerchiamo un po' di più i papi che non hanno ancora realizzato. Con la grazia di Dio, è possibile di realizzare il mario civile. Non è possibile, ma è possibile. Grazie mamma. Questa è il mio grande frate. Ok. Ora devo fare il mio. Ma è un grande frate, non come gli altri. E' una bella. E' un grande frate, non come gli altri. E' un grande frate. Io non mi ha bella o non mi ha bella parlare di lui. Ok. Give her your ring. Give her your ring. Is it Wacavwe? Yes. All right. And Nadine. Are you ready to go? Yeah. Friends, we're gathered here to witness and to celebrate the coming together of two lives. We've come to join this man and this woman in marriage. To be with them and to rejoice with them in the making of this important commitment. The essence of these vows is the taking of another person in their entirety as lover, companion, and friend. It's a commitment that carries with them a lifetime of responsibilities. Buacavwe and Nadine. Today is one of the most important days of your lives. And you stand before this group of loving friends and family who are here to participate in and to celebrate your wedding. Do each of you freely and openly enter into this union without any reservation or reluctance? Nadine, do you take this man to be your lawful wedded husband? Do you promise to love him, comfort him, honor and support him in sickness and health, being faithful to him for as long as you both shall live? If so, answer, I do. I do. You may now place the ring on her finger. Left hand, there we go. And repeat, I thee win. And pledge to you my faithfulness. Madam Camwe. Madam Camwe. Hey. Madam Camwe. Hey. A ring has neither a beginning nor an end. May it be a reminder of the vows you've taken here today and keep you steadfast in it. A joy in times of happiness and a comfort in times of trouble. Okay. Having made satisfactory answers to all the questions put to you. Having shown your willingness to become husband and wife. And having solemnly promised love, honor. Now come over here and we'll get you really married. Okay. Now here is the sign of the documents. Now here is the sign, the sign on the document. May I sign three different places. So my name is yes. Thank you. My name is yes. Whatever you want to do with it. It's got some blanks. I can see it. a Galesburg on the 5th day of December 2021. If you want somebody to fill it in, you'll need somebody that can write better than I can. So I'll just give this one to you. This one, I will take over. Okay, this one, I'll take over to the courthouse tomorrow morning. Then you'll need to go over there and get a certified copy of that. Give them a day or so to get that. And then you can get the certified copy, and that's what you need for all the official stuff. Okay, so... I'll take it over there, and then you can go over there and... Anytime. Yeah, yeah. Okay? All right. And $75. Yeah, here we go. Can we take some pictures? Sure, oh, sure. Yeah, that's fine. We'll see you there. That's fine, sure. So, when you're in the chapel, you're in the chapel. You're in the city. Why are you in the city? You're in the city. Because you're in the city. I love my love, my brother, my family, my family, and my parents, my mother, my mother, my father, my father. You're in the city. You're in the city. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non nessuno Non ci sono più grande Si, è il contratto con la compagno? Non ci sono iniziative Ma è la più grande Cosa per la compagno, ma ammigna Cosa per la compagno 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 Tu sei già il nostro nome Ma quando ti dice Lo non ci dice Mi dice che non ci dice è tu avresti lì? se umani come e Perché anche ieri che ieri saluto da Maka Muda. Come ieri saluto di Maka Mava e poi risposta di Maza. Come ti ho? Ah! Come ti ho? Si, come ti ho? Ahahahahha! Qui e? Voi il mio è di Yamamuf Voi il suo rapporto? Voi il mio è di tutto? Non ci siamo, perciò, perciò. Il mio è di tutto. Non, siccome i proprieti non posso essere assicurato HaiCH dice queste That's where! Coach Manifio è customer il comune grande frate qui cade Ogniで, sempre che dobbis, ma cosa andata No… 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 non 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 parce que le non hai labora perfettamente è stato quanto in una famiglia quindi e per me hai hai come per me come 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 faccia una notizia? Poi foto i foto i foto letto i foto i foto sì i foto i foto è un'esame lo so Luca capanna non lo so se ti metto e ti metto ma manglie la mia bambina vanta ragazzi vanta ragazzi le persone perchè pote qu'il solito in Talata ma non voce la mia ragazzi il collo ma dilla Ah! C'est la mia amame. Svegliare il mondo in pazzo? Si è nel mondo in pazzo, non ne vado in pazzo. Non, non ne vado più via le bambino. Non, dove vai via le bobbio. Non, non, non ne vado più sul piano. Perché subito, non ne vado più sul piano. Vediamo un letto F. Se è lì, il prende un po' di nome. La piastanza che è il bezzo fortale, la piastanza che è il bezzo. La piastanza che è il fanno, o lo che fanno, un po' di riflettere, Celles ci sono già di più? Io ho deciso di più. Io ho chiamo anche questa minata andata, Io ho anche Giselle che si può servire Ma che è bella? Io ho chiede? Giselle Poutou o sono già parlavano questa parte. C'è un po' di Dico E così anche Asana, non mi sono così Ho già un po' di una comunità C'è un po' di Dico Ci sono Giselle Palat Ci sono Giselle Palat Ci sono Giselle Palat Ci sono meglio Grazie a tutti. 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 Yeah. 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 Yeah.